Il Cervinare ha meritato ampiamente la vittoria perché ci ha messo voglia, determinazione, convinzione, sacrificio, tutto quello che ci voleva per vincere la partita, oltre alle qualità tecniche e indiscutibili che hanno i singoli giocatori del Cervinare. Merito al mister del Cervinare che ha preparato bene la partita, i nostri meriti partono dai meriti dell'avversario, noi forse abbiamo concesso un gol che potevamo evitare, poi il resto la partita è andata tutta in salita e penso che sia stata meritata la sconfitta, quindi onore ai vincitori. Quando può incidere sul morale questa sconfitta del Paolisi? No, noi dall'inizio dell'anno abbiamo messo in preventivo che perdessimo qualche partita, quindi abbiamo perso qualche partita, per adesso ne abbiamo perso una sola, abbiamo perso contro una signora squadra e non ci pregiudica niente perché il nostro campionato continua, l'ho detto prima della partita che questa partita non era decisiva e adesso, lo ripeto, non è decisiva, dobbiamo essere soltanto bravi e convinti di continuare il nostro percorso senza assili e senza affanni.